Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che andiamo subito a cominciare dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Iniziamo dalla lettura delle edizioni del centro, questa è la prima di Pescara, Pescara Porto, Milia ricorre al Tarre, il titolo di apertura con lo stop al cambio di destinazione, contro lo stop al cambio di destinazione da uffici in appartamenti si indaga sulle perizie. E poi a centropagina volare con 100 euro tutte le destinazioni low cost con partenza da Pescara dall'aeroporto d'Abruzzo. Nelle cronache Rigopiano chi scatta e posta selfie rischia l'istigazione, ancora imprese, otto mesi di lavoro solo per pagare le tasse e ancora da Pescara cimitero, via i privati, tariffe in calo. Scendiamo nel taglio basso, vertice a Roma, nuovo progetto per lo stadio, il Ministero serve una proposta estesa all'area dell'Atene, un progetto più ampio per il nuovo stadio adriatico e quanto hanno fatto presente ieri pomeriggio i dirigenti del Ministero dei beni culturali alla delegazione della città rappresentata dagli assessori civitarese e diodati. Il progetto si dovrà inserire nella riqualificazione dell'area universitaria. E poi amichevole a Nizza, l'Italia travolge l'Uruguay per 3 a 0. Nel taglio alto ancora richiami dal nazionale, terrorismo in Iran, Teheran, l'Isis assalta il Parlamento, 12 morti e poi tragedia ad Arezzo, dimenticata in auto dalla madre, bimba di 16 mesi, perde la vita. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, questa è la prima dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto, Caputi risolverò il caso del vecchio, così il nuovo rettore dell'università d'annunzio nel giorno dell'insediamento. E poi nelle cronache, bancarotte ex Villapini, sconto di pena ad Angelini e ancora da Lanciano tutti compino in lotta contro la malattia. Nel taglio basso, San Salvo, bandito armato in farmacia e rompe con la pistola in pugno e rapina quasi 1000 euro, cappello calato sugli occhi, è entrato verso le 19.30 e si è avvicinato al banco, sembrava un cliente, si è guardato intorno, poi ha tirato fuori un'arma e puntandola contro il titolare ha chiesto l'incasso della giornata. Il farmacista davanti alla canna della pistola ha aperto la cassa e consegnato i soldi al malvivente. Continuiamo ancora, andiamo a vedere adesso la prima dell'edizione di Teramo. Brucchi e i dissidenti, trattiamo Teramo, la crisi in comune non si risolve e intanto si apre la corsa alle politiche. Dunque titolo di apertura dedicato alla crisi al comune capoluogo. E poi nelle cronache, il giallo dell'acqua e il ruzzo contro l'istituto di fisica fa allarmismo e la protesta a Martinsicuro, elezioni senza vigili urbani. Nel taglio basso, la Cassazione sul caso avvenuto a Teramo, Pennichella vietata, licenziato, dipendente di autostrade, dormiva durante l'orario di lavoro. Invece di pattugliare il tratto teramano della A14 per intervenire in caso di incidente, si era organizzato con un collega la Pennichella a bordo dell'auto di servizio. Il licenziamento, prima confermato dal Tribunale di Teramo, poi revocato in appello e diventato definitivo in Cassazione. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila Avezzano sul Mona. Movida, notti alcoliche a basso costo. L'Aquila spopola tra i giovani il botteillon, bottiglie al discount per ubriacarsi in centro. Nelle cronache, ancora da L'Aquila progetto case da evacuare altre 24 famiglie di coppito. Ad Avezzano manifesti del Movimento 5 Stelle stracciati, video spopola sul web. Da Castelli Sangro, professore muore nello schianto, incidente in galleria, ferite gravemente tre persone. Una strada che percorreva tutti i giorni, ieri purtroppo per Claudio Di Battista, insegnante di 49 anni, originario di Roccaraso, ma residente a Castelli Sangro, è stata l'ultima volta. L'insegnante tornava a casa dell'istituto alberghiero dove da circa 15 anni insegnava i segreti della cucina ai suoi ragazzi nello schianto, ferite altre tre persone. Andiamo avanti sempre con i quotidiani regionali, ma adesso cambiamo testata, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Newtown, raffica di Sgomberi. L'Aquila una settimana dal primo allarme, trovate travi marce in altre piastre abitative, almeno 70 famiglie dovranno lasciare i quartieri di Coppito II e Pagliare di Sassa. Andiamo a leggere anche un estratto dell'articolo. La maledizione dei pilastri marci nelle Newtown dell'Aquila continua. Nei prossimi giorni saranno sgomberati altri 70 nuclei familiari che risiedono nella piastra numero 2 di Coppito II, nella piastra numero 14 di Pagliare di Sassa e a seguire toccherà ai residenti della numero 13 sempre di Pagliare. lo ha reso noto la dirigente Enrica De Paolis. E poi da Pescara a case popolari il giallo degli incendi. In 15 giorni tre alloggi popolari a fuoco, il 20 maggio in via Lago di Capestrano 23 l'inizio della scia di fuoco. A causa molto probabilmente di un corto circuito del mal ridotto impianto dei contatori, uno stabile di quattro piani viene avvolto nella notte dalle fiamme e dal fumo. Intossicati una decina di inquilini fra anziani bambini e anche qualche donna incinte. Residenti raccontano che da un po' di tempo vi erano delle perdite d'acqua e salti di corrente. Il 30 maggio stesso scenario in via Riosparto 15 nelle quartiere San Donato. Continuiamo con la lettura del messaggero della prima pagina dell'inserto Abruzzo. Andiamo adesso a centro pagina. Invalidità pilotata e Berghella sceglie il patteggiamento. Pescara è il medico ed ex consigliere comunale. Concorda con il PM. Due anni e otto mesi. Parola al GUP. Ha scelto di patteggiare la pena. Vincenzo Berghella è il medico prima sospeso dalla professione e poi posto agli arresti domiciliari dove si trova ancora oggi con un della misura cautelare disposto per il pericolo di inquinamento delle prove. Accusato di corruzione, millantato credito, induzione in debita, a dare promettere utilità e circonfezione di incapaci in relazione alle somme che si sarebbe fatto dare da alcuni suoi pazienti per pilotare l'esito positivo delle loro domande di invalidità e di altre istanze alla pubblica amministrazione. La cronaca Roccaraso carambola tra auto. La vittima ha 49 anni. Incidente in galleria. Muore un insegnante. Abbiamo visto anche in precedenza sulla statale 17 che collega Roccaraso Castellisangro. Perde la vita Claudio Di Battista, 49 anni, cuoco ed insegnante. Nel taglio basso Teramo se la pennichella diventa fuori legge. Toleranza zero dalla Cassazione per i lavoratori che durante l'orario di servizio si organizzano per predisporsi a una bella dormita. Di spalla, Regione. Ricorso al Presidente della Repubblica contro le trivelle. Un ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il decreto ministeriale in contrasto con la politica di difesa e di tutela della costa abruzzese varata dalla Regione. Il sottosegretario all'Ambiente, Mario Mazzocca, ha chiesto alla vocatura regionale di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica attraverso il decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 aprile del 2017. Mazzocca, favore del governo ai grandi gruppi, la costa è a rischio. Andiamo nel taglio alto. Chieti, Ivan, versata per 20 milioni, condannato Alfonso Toto. E poi Montesilvano, i rifugiati dopo i migranti, nuova battaglia dei residenti. Da vasto blitz dei carabinieri in comune, dirigente indagato per abuso nel mirino l'ufficio urbanistica. Ieri c'è stato appunto il blitz con sequestro di documenti da parte dei carabinieri. Continuiamo con le prime pagine regionali. Adesso la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Apertura sulla crisi politica. Tre possibili giunte per Brucchi. Il sindaco di Teramo avvia le consultazioni. Tutto dipende dai dissidenti della maggioranza. E poi nel taglio alto l'incontro sulla sicurezza dell'acqua. I sindaci assenti ai laboratori nazionali del Gran Sasso. E solo una passerella. Teramo, birra, canne e pizza nella scuola inagibile. Ancora mamma e scooter nel mirino dei Bulli. Di spalla, anticipato dalla città, Giuliano Valassessore Grimi rassegna le dimissioni. Da Roseto degli Abruzzi, bilancio chiuso con un buco da 7 milioni. A Crogna Leto si è dimesso il revisore dei conti. Polemiche in comune a poche ore dal voto. A centropagina, vetrina della rinascita. Montorio, Natura Alte e Cultura. Domani l'inaugurazione della manifestazione. La vetrina del parco. Nel taglio basso, Tortoreto, poltrone vuote al confronto tra i candidati. E Lega Pro, il Teramo avrà capito gli errori commessi in passato. E questa è la domanda che si pone la città e il nostro collega Jacopo Forcella. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Adesso lasciamo le prime pagine regionali per aprire lo spazio dedicato al nazionale con i principali quotidiani italiani. Il Corriere della Sera, Trump, disse non indagare. Atto d'accusa dell'ex capo FBI, pretendeva a lealtà la difesa. In realtà lo scagiona. Stati Uniti, la dichiarazione che Comey, destituito dalla guida della Polizia Federale, darà oggi al Senato. Nel taglio alto, i franchi tiratori incrinano il patto sul voto e Grillo fa una nuova consultazione online. Questo per quanto riguarda il dibattito sulla nuova legge elettorale. Poi c'è l'intervento di Silvio Berlusconi, il mio sì, al sistema tedesco. Su quanto sta accadendo nella politica italiana c'è anche il punto di Antonio Polito. Democrazia e leggi, il deficit non visto dai partiti. Il titolo della riflessione. E poi la Repubblica. Legge elettorale sul filo. Caos, Movimento 5 Stelle, PD. In aula, 66 franchi tiratori contro la riforma. Rivolta dei grillini che vogliono il voto disgiunto. Grillo dice ora referendum tra gli iscritti. Di Maio, il patto va salvato. Orlando dice la direzione è quella sbagliata. E poi nel taglio alto, attacco al Parlamento. 13 morti, terroristi astaltano anche il mausoleo di Khomeini. L'ISIS fa strage a Teheran, il nuovo fronte del Golfo. A centropagina, come al congresso, Trump chiese all'FBI di fermare il Russiagate. Andiamo sulla stampa. Forze di sicurezza e protezione civile. Il piano antipanico. Il titolare del Viminale dai feriti in prefettura. L'indagine. Nessun controllo. Colloquio con il ministro Miniti in visita a Torino. Governare la paura coinvolgendo le strutture locali. E poi l'ISIS attacca l'Iran. Strage in Parlamento. Attentatori uccisi. Almeno 12 le vittime. Teheran accusa i sauditi. Siete voi i mandanti. E poi il TAR boccia il progetto del parco archeologico. Pasticciaccio Colosseo. Ancora avanti. Il fatto quotidiano. Sondaggio. La Sinistra Unita può arrivare al 16%. I PR Marketing per il fatto. Per i delusi dal PD. Leader sono Saviano, Rodotà e Bersani. E poi la legge elettorale. Nel taglio alto. Cecchini antitedesco. Il Grillo lancia il rivoto. Alla Camera 100 voti fuori controllo. Il numero 2 del NOE accusa di depistaggio sulla soffiata agli inquisiti. Caso Consi. Pecco la talpa della fuga di notizie. Il messaggero adesso. M5S vacilla. Ma il patto regge ancora un'apertura dedicata alla legge elettorale. Alla Camera 66 franchitiratori sulla legge Blitz 5 Stelle sul voto disgiunto. Grillo frena. Sia la riforma ma decide il web. Renzi. Già cambiano idea. Malumori. Anche nel partito democratico. E poi kamikaze nel Parlamento. 13 le vittime. Strage dell'ISIS nel cuore di Teheran. L'Iran accusa gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. E poi l'ex capo FBI in guai a Trump chiese di insabbiare il Russiagate. Comey mi disse di non indagare su Flynn. Rischio stato d'accusa. La Gran Bretagna le urne. May Corbyn sfida nel segno della paura lo scontro e sulla sicurezza e sulla Brexit. Franceschini ricorre. Se il Tar boccia anche il parco del Colosseo. E l'articolo di Oscar Giannino. E poi pubblico impiego permessi a Dio. Gli statali avranno la licenza ore. Il caso Consip ha mentito IPM. Accusa di depistaggio. Il vice capo del NOE. Andiamo sul quotidiano. Il tempo. Ecco il nuovo stadio esclusivo. Il progetto. 55.000 posti. Tre anelli ovunque tranne in sud. Raddoppia la via del mare. Resta il ponte. Già bocciato di Traiano. Questo per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma. E poi la misura del piano energetico nazionale. Così cambierà l'odiato bollo auto. Più il veicolo è vecchio. Più si paga. L'Alitalia. Compagnia sempre più in crisi. Alitalia presenta il conto. 1.400 in cassa integrazione. Poi la tragedia d'Arezzo. Dimenticata in macchina. Muore una bimba di 16 mesi. Ora su Libero. Politici allo sbando. Legge elettorale in malora. Brutti. Sporchi e incapaci. Movimento 5 Stelle non è convinto. E' mezzo PD tra discerenzi. Al primo scrutinio segreto. L'alleanza fra i grandi partiti sulla riforma del sistema di voto. Si rivela un'armata branca leone. Le urme anticipate si allontanano. Il segretario è furioso perché i democratici non vogliono le urne. Berlusconi si gode lo spettacolo. Questo è il riassunto della situazione politica che fa Feltri su Libero. Poi l'Iran di odio. L'Isis fa due attentate a Teheran e l'Arabia ringrazia. L'odio tra Sauditi e Ayatollah fa esplodere il Medio Oriente a rischio di una guerra totale. Il giornale. Caos in Parlamento. Grillo napolitano. Nasce l'asse dei mestatori. Retromarcia di 5 Stelle. Beppe si accoda a Regiorgio e ora boicotta la legge elettorale. E poi Consip. Falso contro Tiziano Renzi. Il braccio destro di Woodcock. indagato per depistaggio. Andiamo sulla verità. L'amico del massone Carboni. Indagato per mafia. Il consulente del padre di Maria Elena Boschi. Michelucci. L'uomo al quale il vicepresidente di Etruria si era affidato per risolvere i problemi della banca. E coinvolto nel processo sull'Andrangheta in Emilia. E nelle intercettazioni si fa il nome del ministro del Rio. Consip. Inchiesta sul numero 2 del Noe. E guerra tra procure. Queste sono le prime notizie e il primo piano della verità sulla pagina giudiziaria. E poi vaccini obbligatori in mezzo a retromarcia. Chi disobbedisce rimane un genitore. Il ministro Lorenzin ci ripensa. Ancora l'Iran resta isolato. L'Isis ci si putta e strage. Massacro inaudito a Teheran. Kamikaze al Parlamento e alla tomba di Khomeini. 12 i morti. Ora cambiamo, diciamo, schieramento politico. Lasciamo i quotidiani di area di centrodestra e per vedere quelli di centrosinistra. In particolare il manifesto sulla fotonotizia. Ora o mai più giocando con il nome dell'attuale premier britannico Teresa May. È il giorno della verità. Oggi la Gran Bretagna va al voto anticipato. Corbyn tenta un'incredibile rimonta contro la premier in grave difficoltà per i sondaggi. È un testa a testa ma sulle elezioni precipita il peso degli ultimi attentati in ballo Brexit e futuro del Labour Party. Nel taglio alto l'Isis attacca il cuore di Teheran. Assalto al Parlamento e al mausoleo di Khomeini. 12 i morti. Il dubbio ovviamente si fa anche a livello grafico. Un parallelismo tra quello che sta accadendo in Medio Oriente e il voto in Gran Bretagna. May be, che in inglese vuol dire può essere. Teresa May in bilico. Si gioca la carta della repressione. Leggi speciali contro il terrorismo. E nel frattempo attacco a Teheran e Jihad totale. E poi il caso Consip. Carabinieri nei guai. Il vice capo del NOE incriminato per depistaggio. Lotta interna all'arma. Interviene la procura. Si torna sul caso di Totorina. Sul dubbio. Non deve uscire in dicella perché è il capo della mafia. E poi far uscire una lezione di rara civiltà. Questi sono i due pareri che poi rappresentano un po' le due fazioni che in questi giorni si stanno dividendo su questo caso. Andiamo su avvenire. Daesh contro l'Iran. L'incendio si allarga. Tentati nel cuore di Teheran. Sarà vendetta. Assalto al Parlamento e al mausoleo di Khomeini. 13 morti. Gli sciiti nel mirino. In risposta minaccia l'Arabia sedita e agli Stati Uniti. E poi Castelluccio. Il paese fantasma. Resta isolato. Il paese colpito dal terremoto. Obbligo vaccini. A scuola basterà la richiesta all'ASL. Questo prevede il decreto. Il secolo XIX. Quotidiano genovese. Legge elettorale. Campo minato. Alla Camera 66 deputati. Non rispettano le indicazioni dei partiti ma l'alleanza tiene. I franchi tiratori fanno vacillare l'accordo. E Grillo rivede la rotta. Nuovo voto online. Questa è l'apertura sulla politica. A Rezzo la donna è tornata dal lavoro dopo ore. Bimba lasciata in auto muore a 18 mesi. La madre era convinta di averla portata all'asilo. Assalto anche al mausoneo di Comenì. 12 morti. Attacco dell'Isis a Teran. Sangue in Parlamento. E poi il caso Torino e la psicosi terrorismo. Minniti nel piano sicurezza coinvolte le strutture locali. Andiamo sul mattino di Napoli. Legge elettorale. Movimento 5 Stelle nel caos. La mossa di Grillo. Nuovo voto online per placare i ribelli. Alla Camera 66 franchi tiratori. Traballa il patto a 4. Votano no alcuni pentastellati ma anche la truppa di Orlando. Martedì la seduta decisiva. Poi a centropagina Iran. Attacco dell'Isis. Rischio guerra con l'Arabia. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Il caso Consip. Il vice del Noe indagato per depistaggio. Il colonnello Sesse interrogato sulla fuga di notizie. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. Il quotidiano pugliese sceglie di aprire sulla riforma elettorale. La riforma spacca i grillini. Avvio sciocchi. Franchi tiratori mettono a rischio la legge. Il leader dei 5 Stelle Tergiversa. Poi si affida al risponso degli iscritti. Il caso Ilva. Il ministro prevede almeno 10.000 occupati. Tra Emiliano e Calenda volano parole grosse. Alla regione Forza Italia applaude al governo. Il PD lo attacca. Questo per quanto riguarda la vendita del polo siderurgico di Taranto. Nel taglio alto tratta di migranti. Base operativa a Bari. E ancora a Foggia. Traffico di rifiuti. Tre politici e 14 arrestati. Andiamo sul gazzettino. Il quotidiano del nord-est. Legge elettorale. L'intesa traballa. Renzi attacca. In due giorni il Movimento 5 Stelle ha già cambiato idea. Scambio di accuse tra i cecchini. Al primo voto in aula spuntano 66 franchi tiratori. Grillo ci ripensa e lancia un'altra consultazione tra gli iscritti. Nel taglio alto. Zaia banche. Se salta il Veneto può fallire l'Italia. Il governatore e le due popolari vanno salvate. Questo per quanto riguarda il caos all'interno del sistema bancario italiano. Continuiamo con la lettura dei quotidiani nazionali. Apriamo quelli economici e finanziari. Partiamo dal sole 24 ore. Banche spagnole. Salvataggio lampo. Santander rileva per un euro il Banco Popolar. Con aumento da 7 miliardi. Nel taglio alto il focus. Rottamazione delle cartelle. Verifica sugli errori di calcolo. In arrivo 800 mila risposte per la sanatoria. Poi scendiamo in basso. All'esame anche la soluzione di sistema. Banco Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Pressing del governo sugli istituti italiani. Andiamo su Milano Finanza. La Spagna argina il bail-in. Azzerati gli azionisti e i detentori di cocco bond e di obbligazioni subordinate. Salvi correntisti e i bondholders senior. Aumento da 7 miliardi. L'ennesimo fallimento dei vari fondi e stress test. Per un euro Santander rileva tutti gli strumenti di capitale del Banco Popolar. Questa è l'operazione Lampo in Spagna che viene presa ad esempio anche per il caso delle banche venete in Italia. BCE dalla pagella ai crediti di Banco BPM. Il verbale ispettivo arrivato in consiglio il 25 maggio sarà discusso oggi con le relative risposte. La vigilanza chiede interventi sui rischi e audit ma non capitale aggiuntivo. E' il jolly dei modelli interni. Andiamo su Italia Oggi. Commercialisti redditi in calo. Guadagnano il 14% in meno di 10 anni fa. Al nord il reddito medio è di 80 mila euro. Al sud di 30 mila. Diminuiscono i giovani. Crescono le donne. Questo è il focus sullo stato di salute dei commercialisti. Continuiamo con i quotidiani nazionali. Adesso quelli sportivi. La Gazzetta dello Sport è il sogno di società e tifosi. Pressing Milan su Belotti. Ma Cairo non molla. Pronti 70 milioni tra cash e giocatori. Il Toro ha offerte superiori però dall'estero. Nel taglio basso fiducia a Italia. Gli azzurri più belli in volata. Uruguay steso 3 a 0. E poi la firma di Max. Soldi e rinforzi per una Big Juve. E Zhang Spalletti. Il patto Inter. Sosa dal Suning. Pronti 110 milioni oltre alle cessioni. L'ex tecnico della Fiorentina allenerà il Jiangsu. Che è la seconda squadra del Suning. Poi il Corriere dello Sport. Gallo alla Diavola. Il titolo di apertura. Milan all'assalto di Belotti. L'erede di Ibra. Zapata e Soldi. La prima offerta rossonera. Il Torino dice no. E aspetta un'altra proposta. Fassone alzerà la posta. Intanto la Lazio incontra Keita. O accetta il Milan per 35 milioni. O può firmare un rinnovo da top player. Nel taglio alto Juve Show. Allegri firma. Arrivano due campioni. A fare Douglas Costa. Le Strette. E c'è Nzonzi per il centrocampo. Scendiamo. Inter. Zhang Senior. A cena con Spalletti. Prima la Champions. Poi lo Scudetto. Nainggolan in arrivo il contratto. Stipendio più alto resterà alla Roma. E poi gli Azzurri. Annizza. 3-0 all'Uruguay. Ora c'è il Liechtenstein. Il mondiale interventi in Corea. Tra l'Italia e la finale. L'ostacolo è l'Inghilterra. La partita si giocherà. Potrà essere vista alle ore 13. Andiamo su Tutto Sport. L'incarico. Allegri 2020. Nuovo contratto per il tecnico. Che guadagnerà 7 milioni più 1 di bonus a stagione per tre anni. La Juve ha fissato l'obiettivo irrinunciabile. Max vinci la Champions. Nel taglio alto tutti i pazzi per il Gallo. La prestigiosa rivista World Soccer ha inserito Belotti nella lista dei giocatori più importanti del mondo. E oggi il retroscena, scusate, è oggi il vertice tra Toro e United. Nel taglio basso Conte Ancelotti, il re sotto assedio per il calcio estero. Iannone si racconta, io, la moto e Belen. Possiamo fermarci qui per quanto riguarda la prima parte di mattino 6. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo, poi il break pubblicitario. E torneremo con la seconda parte per l'approfondimento delle notizie dalla nostra regione. A tra poco. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di mattino 6. Dunque torniamo alle notizie dalla nostra regione. Andiamo ad aprire le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. La pagina Abruzzo del quotidiano, il messaggero comunali, poi le politiche, le alleanze sono un rebus. Domenica si eleggono 50 sindaci, vaste coalizioni all'Aquila e d'Avezzano. Un test poco indicativo per l'autunno con il ritorno del sistema proporzionale. A questo punto, dopo aver letto le pagine nazionali, dobbiamo dire che bisognerà anche aspettare e vedere che cosa accadrà, perché non è detto che la legge elettorale poi alla fine vada in porto. Scendiamo nel taglio basso. Aziende, guadagni d'agosto fino ad allora in cassa il fisco. Studio della CNA sul Mono alla città più tartassata, seguono Roseto, Montesilvano e Pescara. E poi M5S, allarme sull'aeroporto, passeggeri e merci in calo, pettinari, la regione ha erogato 14 milioni all'ente gestore, soldi pubblici che non si sa a cosa siano serviti. Marcozzi, manca la promozione di mare e montagna che potrebbe rilanciare l'infrastruttura. Sempre sull'argomento aeroporto andiamo a vedere la pagina di primo piano del centro. Volare con 100 euro, Abruzzo, la vacanza low cost comincia in aeroporto. Andiamo a vedere l'approfondimento. Pianificare le ferie è diventato un'arte in tempi di ristrettezze. Lo scalo di Pescara offre molte possibilità per chi cerca voli a buon prezzo sulla media distanza. Il check-in si anima di turisti, molti stranieri tra i viaggiatori in attesa all'imbarco a Pescara, tedeschi e belgi sono i più numerosi. Poi ancora la guerra sui numeri, traffico, pasteggeri, aprile e maggio segnano la risalita. La tendenza dall'inizio dell'anno gira in positivo, più 6% e le 5 Stelle denuncia obiettivi lontani e lancia le sue proposte. Allora andiamo a vedere le proposte dei 5 Stelle nel servizio. Ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti prima di procedere con ulteriori ampliamenti. Impegno affinché non vengano ridotti gli orari di funzionamento del sistema di controllo volo. Migliorare l'intermodalità e l'accesso allo scalo aeroportuale. Implementare le rotte trasfrontaliere. Sono queste le proposte del Movimento 5 Stelle per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. La gestione di Saga e le politiche della regione Abruzzo, secondo gli esponenti grillini, non hanno dato i risultati sperati. Secondo i dati di Asso Aeroporti, nel 2016 i passeggeri sono diminuiti di circa 40.000 unità rispetto al 2015. Così come in calo sono stati anche i movimenti, 1.200 circa in meno. Dati su cui però pesano le vicende Ryanair, con l'aumento delle tasse aeroportuali su cui il governo Renzi fece retromarcia e l'abbandono della tratta Pescara-Roma da parte di Elitalia. Per i 5 Stelle nulla è stato fatto, ad oggi, per creare un vero sviluppo dello scalo sotto il profilo del numero delle compagnie aeree presenti, a fronte di finanziamenti corposi da parte di Regione Abruzzo, che ammontano tra il 2014 e il 2016 a 14 milioni di euro. Al di là degli annunci, quindi, dice Domenico Pettinari, l'aeroporto stenta a decollare. Da un'analisi dettagliata di asso aeroporti che abbiamo analizzato, viene fuori che, mettendo a confronto l'annualità 2016 col 2015, c'è una perdita di passeggeri di circa 100.000 passeggeri transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. Non solo, si perdono anche oltre 1.500 movimenti di mobili transitati nell'aeroporto d'Abruzzo. C'è un altro dato allarmante che i ricavi dalla vendita del 2016 sul 2015, abbiamo degli bilanci intermedi che ci dicono che sono stati venduti molto prestazione, vendita in meno e quindi perdita di danaro anche su questo. Tutto ciò a fronte di cosa? A fronte di un'iniezione di danaro pubblico nelle annualità 2015-2016 pari a 14 milioni di euro, che la regione ha erogato mediante contributi straordinari. Ci avevamo detto che avremmo raggiunto un milione di passeggeri, stiamo perdendo passeggeri, questa è la realtà. Sempre sul centro, sempre sull'argomento aeroporto e aeroporti, le occasioni perse, l'Aquila allo scalo del G8 non è mai decollato e poi Giulianova, l'idrovolante per la Croazia, fa solo il volo inaugurale. Ancora, l'organico dei controllori sui tagli ENAV scoppia la polemica, foschi di Fratelli d'Italia, appelli inascoltati, i sindacati dicono ecco i motivi. E proprio adesso andiamo ad ascoltare uno dei sindacalisti impegnati nel gestire le questioni dell'aeroporto, parliamo di Franco Rolandi della Filt CGL. Sentiamo la sua intervista. I sindacati intervengono in relazione al possibile declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo, in realtà una notizia che non trova fondamento perché lo scalo rimane tra quelli di interesse nazionale e dunque può accedere ai finanziamenti e per il personale soprattutto non cambia nulla rispetto a quanto già in essere. Sì, infatti abbiamo appreso dalla stampa che ci sarebbe un rischio declassamento sull'aeroporto d'Abruzzo, è una notizia assolutamente infondata perché l'aeroporto d'Abruzzo rimane, resta un aeroporto di interesse nazionale, non c'è alcuna correlazione tra la vicenda ENAV, la vicenda che interessa i controllori di volo, rispetto ad un possibile ed infondato declassamento dell'aeroporto d'Abruzzo. Quindi in qualche maniera possiamo anche tranquillizzare i dipendenti dell'aeroporto? Sì, assolutamente, non c'è alcun tipo di problema per quanto riguarda i dipendenti della saga. Per quanto riguarda invece i controllori di volo, il tutto è frutto di un accordo, in quanto come è desumibile il traffico aereo che c'è nell'aeroporto d'Abruzzo, non è paragonabile al traffico aereo che c'è a Milano, a Malpensa o piuttosto a Fiumicino. Quindi i lavoratori sono stati posti di fronte ad una scelta, o la possibilità di rimanere a lavorare in Abruzzo con una decurtazione rispetto ai livelli stipendiali oppure la possibilità di conservare i livelli stipendiali però andando a lavorare fuori regione. Questo è frutto comunque di un accordo a livello nazionale? Assolutamente, c'è un contratto e c'è un accordo sottoscritto anche dalle organizzazioni sindacali che sono invece ben vicili e ben presenti rispetto alle dinamiche del trasporto aereo abruzzese e nazionale. Ora la pagina Abruzzo della città, la pezzopane sta con Toto, i sindacati contro per la senatrice va rivista la misura che prevede il trasferimento diretto ad Anas dei canoni del gruppo Toto. I sindacati sono del parere opposto, siamo di fronte ad una società che parla di sicurezza solo ora che ci sono in ballo milioni di euro ma nei fatti abbandonato da tempo la manutenzione sta eliminando la presenza dell'esattore al casello e sta diminuendo il numero del personale. Poi bancarotta Villapini ridotte in appello la pena per Vincenzo Angelini e nel taglio basso la giudiziaria Alfonso Toto condannato per non aver versato 20 milioni di IVA. L'imprenditore si difende, avevamo già dichiarato il debito nato per garantire gli stipendi e i pagamenti ai fornitori. Torniamo sul centro adesso, andiamo a vedere l'apertura della pagina Abruzzo. Indagine della CNA, imprese al lavoro fino ad agosto per pagare le imposte, notizia che abbiamo visto anche sulla pagina Abruzzo del Messaggero. E poi gli impianti marini entro le 12 miglia ricorso a Mattarella contro il decreto pro-trivelle. Nel taglio basso il presidente Navarra ora allo sviluppo, via libera al piano del parco Gran Sasso Laga. Il Masterplan Ortona, lavori per la ferrovia sul porto. Ieri sono stati presentati i lavori contenuti nel Masterplan Opera da 1 milione e 700 mila euro. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro, apriamo la pagina di Pescara. Pescara Porto, ricorso al Tar di Milia per sbloccare i palazzi dopo il no del comune al cambio di destinazione, uffici, appartamenti. L'avvocato all'attacco e il Consiglio Comunale non era competente a decidere sugli alloggi. Poi l'inchiesta e gli sviluppi ora si indaga sulle perizze, sospetti di squadra mobile PM mai fatti controlli sul rischio esondazione. Il nuovo fronte dell'indagine è sotto esame gli accertamenti richiesti dal Genio Civile sul pericolo rappresentato dal fiume. Andiamo ad aprire anche, a vedere la pagina di apertura di Pescara del messaggero. Roghi e abusivi case popolari nel caos. L'incendio di Via Lazio è l'ultimo della serie tra atti dolosi, incidenti, dilaga l'effetto giungla, il nodo della manutenzione, atere e comune alle prese con una situazione ingestibile, l'ira degli inquilini, i portoni guasti per favorire il Via Vai notturno. Avremo bisogno di 80 milioni per risolvere tutte le criticità, dice la di dell'ente Virgilio Basile. Nel taglio basso la diplomazia del calcio siglata all'intesa tra Pescara e la città cinese di Fuzzu. Ieri la firma tra Alessandrini e il collega per il progetto Football City. Continuiamo sul messaggero. Berghella Pacteggia, due anni e otto mesi, il medico ai domiciliari per corruzione e bilantato credito. Ha risarcito le vittime costrette a pagare per certificati e pratiche. Si riapre anche il caso della scomparsa della ex moglie del professionista. Una telefonata suggerisce una nuova pista. I dubbi sulla sorte di Silvana Pica. Si aggiunge il giallo sulla sorte del figlio della coppia, introvabile da anni. Poi la protesta. Matteotti a rischio senza fondi comunali. Lupe perde il pelo ma non il vizio. Un anno esatto di distanza. Il comune di Pescara ha destinato 0 euro per lo svolcimento del trofeo Matteotti di ciclismo. Il programma è il 16 luglio. Scendiamo. Reporter sociali nelle scuole. Racconto di esperienze forti. Il gruppo degli studenti premiati in questa fotografia. Nel taglio basso. Cautottimismo sulla salute del mare. Ok, via Galilei. Attesa per Fosso-Vallelunga. E poi mercato etnico illegale. Confcommercio dice no. Torniamo sul quotidiano. Il centro adesso. Andiamo a continuare la lettura delle pagine di Pescara. Stop ai privati. Il cimitero torna al comune. I prezzi scendono del 40% dal 3 luglio. Il camposanto di San Silvestro passa ad attiva. Ridotte le tariffe. E poi un progetto più ampio per il nuovo stadio. Civitarese e Diodati incontrano a Roma i dirigenti del Ministero dei Beni Culturali. L'opera può essere realizzata solo all'interno di un polo culturale e sportivo. Andiamo avanti. La carica dei professori trasferiti. Lasciateci lavorare in Abruzzo. Delegazione in rappresentanza di 400 docenti. Protesta davanti all'istituto scolastico provinciale. Chiediamo al Ministero di rivedere le assegnazioni e stabilire le cattedre provvisorie. E poi doping. Nei guai un altro palestrato. I carabinieri fermano in via Stradomento. Un 39enne di Pescara aveva un anabolizzante arrivato dall'Asia. Continuiamo sempre sul centro. Andiamo nell'area metropolitana. Furti in tre case. Sparite due auto di lusso. I malviventi sottraggono le chiavi e rubano una Porsche e una Mini. Denunciato in un sospetto dei colpi nei ristoranti. Notizia che arriva da Francavilla al mare. Poi privatizzare l'asile eviterà il dissesto. Da San Giovanni Tettino il sindaco vogliamo salvare i posti di lavoro della SGT e i servizi di qualità. Nel taglio basso i cantieri a Piazza Sant'Alfonso a Francavilla. Commercianti in allarme. Andiamo sempre sul centro ma nella pagina di Monte Silvano. Verso la normalità. Tregua in via Ariosto dopo gli sgomberi. Una settimana dall'allontanamento dei senegalesi. L'area è stata pulita ma la polemica non si ferma. Articolo 1. L'amministrazione aveva altre strade. Restiamo sempre a questa notizia che riguarda via Ariosto. E più in generale l'accoglienza di rifugiati e extracomunitari ancora barricate contro i rifugiati. A Monte Silvano scendono nuovamente in piazze i residenti della zona ex Artigian Luce destinata ad ospitare i richiedenti asilo. La protesta cavalcata da Hashtag Montesilvano 2019. In arrivo un altro ghetto dopo quello di via Ariosto, dice Anthony Aliano. In fuga con le auto delle vittime dopo i furti in casa. La notizia che abbiamo visto anche in precedenza da Francaville. Poi il palacongressi dedicato a Dean Martin nel centenario dalla nascita dell'attore ed artista italo-statunitense di origine abruzzese. Ieri l'intitolazione del centro congressi di Montesilvano. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo avanti nella lettura delle pagine interne. Spoltore al voto, le cose da fare se sarò sindaco, le risposte ai programmi dei tre candidati in lizza per le comunali di domenica. E poi Rigopiano, chi posta selfie sui social rischia il reato di istigazione. Nuove accuse dopo la denuncia del custode Colangeli. Intanto il comune preme per attivare la bonifica del sito. Impianti sportivi. Marò decolla con 150 mila euro il progetto turistico che lega Manoppello e Rosciano. Continuiamo sempre sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere l'apertura della pagina di Chieti. Università d'Annunzio Caputi risolverò il caso del vecchio. Intervista al nuovo rettore che ieri si è insediato ufficialmente in Ateneo. Prima di tutto il riassetto amministrativo. Andiamo a vedere anche la pagina di Chieti del messaggero. Andiamo subito a recuperare. non versò l'IVA per 20 milioni condannato Alfonso Toto. Notizia che abbiamo visto anche in precedenza sulla città. Ieri la decisione del giudice. E poi ancora parelle nei corridoi. Blitz dei carabinieri del NAS. Un'operatrice socio-sanitaria si sfoga. Noi diamo il massimo ma così diventa impossibile. Poi il Tribunale corsa a otto per diventare presidente. Andiamo nella pagina di Lanciano Vastortona. Notizia che arriva da Vasto e riguarda la cronaca giudiziaria urbanistica. Ha indagato un dirigente del comune Blitz dei carabinieri in municipio. Ieri sequestrati Faldoni e PC. L'inchiesta del PM di Florio per abuso d'ufficio continuato. Sono due le vicende nel mirino della procura. Un fabbricato di piazza San Pietro. Una presunta irregolarità a Montevecchio. Andiamo ancora avanti con la lettura delle pagine interne del messaggero. Adesso apriamo quella dell'Aquila. Altre piastre a rischio crollo. Disposta a una nuova evacuazione. Lo sgombero riguarda 70 nuclei che vivono negli alloggi realizzati da Cosbau. Provvedimento assunto dal comune alla luce dei controlli effettuati su 11 siti. Nel taglio basso appropriazione in debita. In tre finiscono nei guai in questa inchiesta. Sempre nell'Aquilano. Andiamo avanti. Super ospedale 118. La sanità al centro del duello elettorale. Biondi-Martella. Delibere con gaff e scippi alla città. Pietrucci. Gridare al lupo al lupo. Mina la credibilità. Centrodestra. Martina ha qui un potenziale... Scusate, centrosinistra. Martina ha qui un potenziale unico. Il ministro dell'Agricoltura. Dobbiamo fare dell'Aquila un'esperienza nazionale. Andiamo nella pagina di Avezzano sul Mona. Carambola in galleria. Muore un insegnante. Claudio Di Battista, 49 anni, di Roccaraso. Era docente presso l'istituto alberghiero De Panfilis. Lascia moglie e tre figli. Tre donne ferite gravemente nello scontro tra tre mezzi. Che ha coinvolto due studentesse e una 76enne. La dinamica ancora da chiarire. Non si esclude un malore oppure un sorpasso azzardato. Adesso andiamo a vedere le notizie dal Terramano. E dunque riapriamo la città. Partiamo dalla crisi al comune di Teramo. Brucchi avvia le consultazioni per la giunta. Esecutivo a 6 o a 7. Tre scenari possibili a seconda delle risposte che arriveranno dai dissidenti. Vedete qui i tre scenari riassunti in una infografica. Giunta a 6 con sbraccia oppure senza oppure un'altra giunta con 7 assessori. Incontri si comincia domani sera con una nuova riunione di maggioranza. Sabato l'incontro con Fratelli d'Italia e la lista al centro per Teramo. Nel taglio basso, Cronialeto, il revisore dei conti si è dimesso a pochi giorni dal voto. L'opposizione attacca sui presunti problemi nel bilancio e nella relazione di fine mandato. Il sindaco D'Alonso minimizza. La crisi dei rubinetti. Quella visita è stata solo una passerella. I sindaci assenti al sopralluogo nei laboratori del Gran Sasso ribadiscono le loro ragioni a fronte delle novità emerse. Martedì 10 sindaci del Ruzzo su 40 hanno preso parte all'incontro con i vertici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per fare il punto sulle captazioni. Nel taglio basso, gli inquilini Ater sperano nelle buone notizie. L'ente ha deciso di dotarsi di un addetto stampa e comunicazione. Continuiamo. Attenzione ai cani rinselvatichiti. Il WWF interviene sulla strage di Ovinia alla specola chiedendo controlli approfonditi. E poi mamma e scooter nel mirino dei Bulli sul bus dal finestrino le lanciano una bottiglietta d'acqua e rischia di schiantarsi assieme alla figlia. Birre, canne e pizza nella scuola abbandonata. Sempre da Teramo la San Giuseppe diventa luogo di bivacco per adolescenti alla ricerca di un posto riparato in centro storico. Continuiamo con la lettura della città. Andiamo a vedere le pagine dalla provincia. La crisi a Giulianova, PD e civicamente chiedono altro tempo nel primo giro di consultazioni per la giunta Mastromauro. in cassa l'appoggio di articolo 1. Prossimo giro, martedì in municipio. Intanto le dimissioni ieri mattina sono arrivate da parte dell'assessore Gianluca Grimi. Continuiamo con la lettura dei giornali. Ritorniamo sul centro ma andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport. E dunque andiamo a vedere le notizie che riguardano il Pescara. Serie B, l'intervista. Guns Senior, Pescara sarebbe un'ottima scelta. L'ex bomber Maurizio spinge per l'arrivo in biancazzurro del figlio Simone Andrea. Piazza Calde, società ambiziosa. E le belle parole di Zeman lo hanno lusingato. Il tecnico Boemo aveva proprio parlato in maniera positiva del figlio dell'attaccante ex Inter, Maurizio Gans. Poi nel taglio basso il mercato su Palazzi anche Chievo e Crotone. Oddo vicinissimo al Frosinone. L'Empoli pensa a Vivarini. Serie B, ultimo atto. Il Benevento di Baroni è un passo da là col Carpi. Basta un pari questa sera alle 20.30 la partita decisiva. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero. Andiamo a vedere quale notizia in primo piano pone il quotidiano. Pescara sulla stellina Soleri. I biancazzurri provano a bruciare tutti per il bomber della Roma Primavera, protagonista delle finali Scudetto. Visionato ieri il centrocampista Juventino Muratore. Accordo per Vanhausenden, ma il Belga non è convinto. E poi Zeman dall'ok per Gans. Mi piacerebbe allenarlo. Nel taglio basso vediamo il Teramo. Teramo riparte dalle conferme di Speranza e Caili. Non c'è ancora l'ufficialità di Repetto come nuovo DS, ma l'accordo. Sembra raggiunto. Andiamo a vedere anche sul centro che cosa titola per quanto riguarda il Teramo. Lega Pro i biancorossi. Teramo, e Repetto, il direttore sportivo firmerà un biennale vertice tra il patron Campitelli e il presidente del Pescara Sebastiani che ha liberato il DS dal vecchio contratto. Andiamo a vedere anche l'apertura sul Teramo da parte della città. Allora recuperiamo la pagina dello sport. Il Teramo avrà capito gli errori del passato. Prima di aprire la prossima stagione vanno analizzati attentamente i motivi che hanno portato ai due flop di fila. Ripartire con presupposti nuovi. In casa biancorossa si prevede un profondo cambiamento, ma in queste due stagioni sono stati tanti gli uomini che si sono alternati, con poca fortuna ottenendo scarsi risultati. Spese alte ma inutili, con dei budget elevati per la categoria. Il Diavolo ha raccolto 86 punti in due stagioni sportive. Continuiamo con la lettura delle pagine dello sport. Torniamo sul centro. Serie D. L'Aquila in vendita. Chiodi. Chiusura. Un passo. Slitta il vertice per la cessione del club rosso-blu. Il DS De Angelis verso il San Nicolò. Il calcio a 5. Possiamo anche vedere delle immagini della partita di ieri. Pescara al tappeto. Ora serve il miracolo. I biancazzurri falcidiati dalle squalifiche. K.O. in casa della Luparense. Partita persa per 5 a 2. Domani occorre una vittoria per il sogno tricolore. Niente da fare. Dunque per il Pescara Bassano. Gara 2 finisce 5 a 2 per la Luparense. La finale scudetto condita dalle polemiche ricorderete per quanto accaduto al termine di gara 1 a Pescara con la Rissa a fine partita che ha pesato anche su questa gara 2 con tante squalifiche. Alla squadra di Colini ieri sera rimpiazzato sulla panchina del Delfino da Marzio Forte. Vanno comunque gli applausi per aver provato in condizioni più che precarie a vincere la partita. Ora c'è la decisiva gara 3 in cui il Pescara deve cercare di fare bottino pieno per continuare a coltivare il sogno scudetto. Possiamo tornare sul quotidiano Il Centro. Eccoci qui. La carica dei 600 per la notturna di Chieti. Sabato torna il grande podismo tiatino con tanti iscritti. Il favorito è il campione etiope a Dugna. Andiamo sul messaggero a vedere le altre notizie che troviamo sulla pagina dello sport. Pescara ancora a K.O. Scudetto più lontano. Torniamo al calcio a 5 dopo le polemiche e le squalifiche. La Luparense vince gara 2 e si porta avanti 2 a 0 nella serie. Ori e Biancazzurri rimaneggiatissimi. Serve un miracolo. Il volley di A2 la seco Ortona chiude per Tartaglione e Ottaviani. Queste le notizie di mercato. E poi il Francavilla che coltiva il sogno di approdare dopo tanti anni di tornare in Serie D. Galli suona la carica. Francavilla ci siamo. Domenica pomeriggio alle 16.30 al Vallanzuca. Il Francavilla gioca la finale di ritorno dei play-off nazionali di eccellenza contro il Fabriano Cerreto. Dopo lo 0-0 dell'andata nelle Marche la squadra di Montani gioca la partita più importante degli ultimi 30 anni di storia giallorossi. Non state a piedi in ogni ordine di posto. Bisogna abbattere il Fabriano per volare in Serie D. Con questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani alle ore 8.00. La nostra informazione invece alle ore 14.00, alle 19.00 e alle 23.00 con le tre edizioni del TG6. Grazie per averci seguito anche questa mattina. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito anche questa mattina. Grazie per averci seguito anche questa mattina.